Mostre, passeggiate nel verde, degustazioni e concerti. Tanti gli eventi in programma per la 28esima mostra Antiche Camelie della Lucchesia, promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori, che si svolgerà nel Borgo delle Camelie, nei paesi di Pieve di Compito e Sant'Andrea di Compito e in altri luoghi del territorio, nei fine settimana 11, 12, 18, 19 e 25 e 26 marzo. Un programma ricco di appuntamenti, che vede tra le maggiori novità dell'edizione 2017 l'ulteriore valorizzazione del Camelieto del Compitese, con l'inaugurazione del nuovo settore di Camelie Sasanqua e dello spazio riservato ai soci della Società Italiana delle Camelia. L'inserimento nell'itinerario della Villa Reale di Marlia, che durante la manifestazione permetterà ai cameliofili di scoprire, tra le altre bellezze del suo parco, i viali che ospitano oltre 50 piante di antiche camelia. Risalente al 1808, la collezione corrisponde alla prima testimonianza documentaria certa dell'arrivo della Camelia giapponica a Lucca. Per la prima volta, inoltre, la Kermess dedicata alla Camelia ospiterà anche una cerimonia del tè cinese, con degustazione che andrà a confrontarsi con quella del tè giapponese, presente da molti anni. Avremo la collaborazione con questa location eccezionale, che è Villa Reale, ma non solo, tutte le altre ville ci saranno quindi giardini aperti e soprattutto potremo vedere i due centri, cioè nella parte sud e nella parte nord, che si avvicinano, che si crea un ponte tra i borghi, che sono il simbolo ormai della nostra manifestazione, della mostra delle antiche camelia della Lucchesia, mi riferisco a Pieve, Sant'Andrea di Compito e appunto Villa Reale. La mostra sarà inoltre la vetrina dell'anteprima della mostra Mercato Cose Buone della Terra Toscana, eccellenza enogastronomica a chilometri zero.